Allora con Giulio Cocco alla fine della partita con il Montecchio che c'era differenza tra le due squadre, si sapeva anche prima della partita io però in Cronaco ho detto tante volte che mi è piaciuto lo spirito del Montecchio è stata partita vera e io ho apprezzato molto lo spirito con cui hanno affrontato questa partita Sì, volevamo iniziare bene il campionato sapevamo che comunque tutte le partite non bisogna prenderle sotto gamba, neanche questa anche se è una neopromossa siamo entrati col piede giusto, abbiamo già indirizzato la partita per noi quindi abbiamo fatto una bella partita però complimenti anche al Montecchio che sono venuti qua con nulla da perdere a giocarsi le loro partite Rodeva un po' dopo la partita ovviamente di Follonica perché c'è poco da dire un po' rode quella sconfitta, bisognava assoluto togliersi qualche scoria e l'abbiamo fatto Sì, dopo una sconfitta, soprattutto una finale, perdere un titolo così fa sempre male però bisogna pensare anche al campionato e c'è tanto in palio quindi abbiamo iniziato bene e continuiamo così